Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Allora, oggi un video spacchettamento mi è arrivato il regalo da parte di Antonio E andiamo a vedere subito che cos'è Prima di vedere cosa mi ha regalato però voglio salutare una ragazza che mi segue che si chiama Gloria, ti mando tantissimi bacioni tesoro e ci tenevi tanto ad essere salutata e io ti mando tanti tanti baci E poi vi voglio chiedere di lasciarmi like e commenti come sempre Andiamo ad aprire subito il pappo Allora Non si capisce che cos'è ancora perché non ho ancora aperto Però abbiamo una sacca Quindi è qualcosa che sicuramente mi posso portare dietro Ah ecco, è uscito il manuale, vi faccio vedere subito che cos'è Si vede? Sono le luci Come si chiamano? Soft box light Abbiamo scatoli, scatolini Queste sono le lampadine Sicuramente Questi qui non lo so Questi saranno i supporti E poi qui abbiamo i pannelli Quelli lì che si montano E nulla, noi adesso li andiamo a montare E poi vediamo l'effetto finale E poi vediamo l'effetto finale E poi vediamo l'effetto finale Allora abbiamo quasi finito di montare Questa è completa Come vedete Questa c'è la piccolissima lampadina E questo è il dietro Sono della marca Excel Van Se vi può interessare Le abbiamo già accese La luce è fortissima E ovviamente le andrò a testare Vi farò sapere come sono Allora come vedete La luce è fortissima Oddio non rende tantissimo Col mio telefono Ma vi assicuro che la luce è fortissima E nulla E nulla Io vi saluto Mi raccomando Se voi le utilizzate già Fatemi sapere E datemi qualche consiglio Ma che fai? Vi farò sapere ovviamente Nei prossimi video Come mi sto trovando Se sono buone Sicuramente d'estate faremo la sauna Però vabbè Sto facendo il test delle luci Comunque sono molto forti Quindi adesso Io le inizierò a testare Facendo una videoricetta Vediamo un attimino Perché io principalmente Le volevo per le videoricette Perché vengono sempre malissimo Vi mando un bacio E vi aspetto domani Con un nuovo video Ciao